Direttore, diceva prima Mr. Amarante, prima ci calliamo in questa categoria con la giusta mentalità e prima si esce fuori da queste impasse e si riesce a fare punti su campi anche difficili come questo. Prima credo che bisogna chiedere scusa a quelli che sono venuti oggi, a quelli che sono rimasti a casa, bisogna chiedere scusa alla società, ma non perché hai fatto una brutta partita o perché hai perso, perché prima dobbiamo rendersi conto della maglia che indossiamo e poi viene tutto quanto il resto. Io probabilmente sotto il punto di vista dell'impegno non posso dire nulla perché penso che la squadra abbia corsa, abbia lottato su palla su palla, però probabilmente credo dal primo all'ultimo possiamo e dobbiamo dare qualcosa di più a tutti, me per primo e quindi l'analisi che faccio io non è un'analisi tecnica perché non mi compete, l'analisi che faccio io è un'analisi che riguarda la mentalità, la voglia e le palle che oggi sono mancate, probabilmente la voglia no, ma sono mancate le palle e mancata la mentalità e questa è una squadra, qualsiasi squadra non se lo può permettere, figuriamoci la nocerina. Che cos'è che non ha funzionato? Una nocerina che ha fatto tantissimo possesso palla forse è mancata negli ultimi 16 metri, ci è arrivata poco, male, con qualche conclusione sbiliecca? Tecnicamente il primo tempo ci siamo abbassati troppo e eravamo troppi lì dietro e non riuscivamo a ripartire, il secondo tempo abbiamo cominciato bene, penso che nel momento migliore nostro abbiamo perso una palla e abbiamo sbagliato un'uscita e abbiamo preso gol, questo tecnicamente è pensato alla partita, al secondo tempo abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto delle buone situazioni di gioco, però ripeto, io penso che dobbiamo fare tutti quanti un esame di coscienza perché credo che questa squadra possa fare molto, ma molto di più, dal primo all'ultimo. Se ha parlato con la squadra che cosa ha detto ai ragazzi? Io ancora non parlo con la squadra perché dopo la partita ritengo sia deleterio, ritengo che a caldo le sensazioni e le emozioni portano sempre magari a poter dire qualcosa di sbagliato, però sicuramente avremo modo di parlare con la squadra e ti ripeto, si può vincere, si può perdere perché oggi purtroppo stiamo commentando la partita che penso che è un 2-0 se si analizza al di fuori dell'emozione o delle situazioni penso che sia un risultato assolutamente bugiardo, però ripeto, noi non possiamo permetterci di fare questo tipo di analisi, bisogna avere la mentalità e soprattutto la consapevolezza che quando andiamo in giro noi portiamo una maglia che pesa parecchio e quindi dobbiamo essere tutti quanti con le spalle molto larghe in grado di saperla indossare ed onorare sempre, ma la mia è un'analisi che faccio a prescindere dal risultato, io penso che questa squadra debba fare molto di più e lo prendiamo.